In Italia non si chiude le persone, non si è stato a posto, 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 non si è stato a posto. Volanti della polizia, ambulanze, vigili del fuoco, ancora una mattinata movimentata alla ex Lebole, un'area ormai da anni al centro di numerose polemiche. Fa schifo, tutto è un abbandono, purtroppo funziona così, quando una cosa si abbandona, diventa preda di queste persone. L'intervento questa mattina ha chiedere aiuto una coppia già nota alle forze dell'ordine che raccontava di essere stata aggredita all'interno di un pezzo della città nel degrado dopo la chiusura dello stabilimento ormai oltre vent'anni fa. La coppia ha ripiutato le cure dei sanitari e al momento non sarebbe stata presentata alcuna denuncia. Le persone vengono qua e sicuramente si trovano un'immagine della città, davanti a un'immagine della città che lascia il tempo che trovano. Solamente qualche giorno fa un uomo era stato ferito con un coltello sempre all'interno dell'aria, utilizzata anche come riparo e dormitorio. L'aggressore, a distanza di alcune ore, era stato denunciato per lesioni aggravate, ma la zona continua a restare teatro di episodi di degrado e microcriminalità. Non è bello da vedere insomma tutta questa operazione. Anche poco sicuro a tratti? Anche poco sicuro sì, pericoloso, non lo so, non è bello. Si abitano anche dentro? Penso di sì.